Questa è una pianta che è stata ritenuta magica in tutta una serie di culture. Nelle culture dell'Europa settentrionale, addirittura i danesi ritenevano che all'interno di ogni albero di Sambuco abitasse una sorta di spirito che loro chiamavano Huldamer, che si potrebbe tradurre con madre del Sambuco. Uno spirito capace di fare del bene o del male, a seconda di come uno si approcciava alla pianta. Tant'è che loro avevano l'abitudine, questi danesi, di chiedere sempre all'albero il permesso di raccogliere qualunque sua parte. Dovevano prendere, per esempio, del legno, prendere i frutti, prendere i fiori, chiedevano sempre il permesso. Ritenendo che se non avessero chiesto il permesso, questo spirito li avrebbe perseguitati in un modo o nell'altro, seguendoli a casa. Presumibilmente uno dei motivi per cui questa pianta è stata associata a questo spirito che può fare del bene e del male è legata alla sua proprietà, perché questa è una pianta che se non è usata bene è tossica. Se invece è usata bene, non soltanto è benefica, può essere utilizzata per esempio come medicina, ma fornisce anche cibo. Le bacche sono chiaramente eduli, le bacche mature, così come i fiori possono essere mangiati. Nella tradizione irlandese si ritiene che questa pianta sia legata al mondo delle fate. Chi siede sotto questa pianta, in particolare a periodo dell'anno che dipende dalla tradizione, si dice abbia la capacità di vedere il re delle fate. Questa sua forte valenza di pianta che è a metà tra il regno umano e il regno delle fate, tra il bene e il male, è curiosamente legata anche ad un'abitudine che è relativa al sambuco. Il sambuco si utilizza come pianta di confine, viene utilizzata, veniva utilizzata fino a non molto tempo fa per segnare i confini tra le particelle. Il sambuco è il guardiano dei confini, sia nel senso territoriale, sia nel senso di pianta che sta nel mezzo tra questo mondo e il mondo dello spirito, tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno, l'underworld della tradizione britannica. È una pianta che ha delle proprietà notevolissime, è una pianta medicinale in tutte le sue parti. Le bacche e i fiori del sambuco, entrambe commestibili, anche se le bacche del sambuco devono essere raccolte quando sono perfettamente mature, altrimenti risultano leggermente tossiche, e hanno la capacità di contrastare i raffreddori influenza, o meglio, hanno delle proprietà antivirali abbastanza importanti. Oltre a ciò, questa è una pianta che si dice ha la capacità di aprire tutti i pori dell'organismo umano, perché questa è una pianta che ha la capacità innanzitutto di aprire i pori della pelle, è una pianta diaforetica che stimola la sudorazione, è una pianta capace di attivare i reni e quindi di stimolare la diuresi, è una pianta capace di risolvere i problemi di stipsi, è una pianta capace di sbloccare le mestruazioni bloccate. È uno dei motivi per cui è stata ritenuta una delle piante medicinali più importanti, perché nell'ottica umorale, nell'ottica della salute dell'uomo, intesa come buona circolazione degli umori, sia nell'ambito stesso dell'organismo, sia da dentro a fuori e viceversa, ovviamente questa è una pianta che risolve tutto ciò che tutti i blocchi è una pianta magica. Non è un caso che la Rowling abbia pensato a Sambu come l'albero dal quale trarre la bacchetta più potente della sua opera.